Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di sabato 7 novembre 2020. Questa è Fano TV, canale 17 del Digitale Terrestre. Buongiorno anche a coloro che ci seguono attraverso i nostri social e quindi attraverso il cellulare. Cominciamo dal santo del giorno, lo vediamo immediatamente con il cartello, oggi è Sant'Ernesto, il cognome fate voi. Alle 6.56 l'alba, alle 16.53 invece il tramonto. Adesso vediamo il tempo. Il tempo per la giornata di oggi, così come quella per la giornata di domani e dopodomani, sarà serena con poche nuvole e temperature minime in diminuzione. Le massime saranno in aumento per domani, domenica 8 di novembre. Ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature minime stazionari e le massime in ulteriore lieve aumento. Mentre lunedì il sole sarà splendente su tutta la regione Marche, un po' di venti lungo la fascia costiera. Però continua ad esserci questo tempo poco evolutivo, tempo comunque decisamente buono. Volevo farvi vedere, mannaggia sono uscito dalla pagina di Facebook, forse riuscirò a riprenderla. No, purtroppo non riuscirò a riprenderla. E quindi, che devo fare? Allora, andiamo subito a vedere i giornali. Andiamo a vedere i giornali e cercherò di farvi vedere poi eventualmente il video, perché volevo farvi vedere il video che ieri sera abbiamo trasmesso in diretta, cioè l'arrivo di Vittorio Sgarbi a Fano, in questo locale di Fano con l'imprenditore, il ristoratore Carriera, una diretta che è stata seguitissima. Abbiamo toccato punte di 3.500 persone contemporaneamente a vedere, a guardare quello che stava succedendo dentro questo ristorante nel cuore della città di Fano. A un certo punto sono arrivati i carabinieri, a un certo punto Vittorio Sgarbi è uscito, ci ha rilasciato una dichiarazione, poi è andato a San Marino, è andato a cena lì nel Titano. Ha parlato ai nostri microfoni anche Carriera, ha detto io vado avanti, ho ancora altri ristoranti, ne aprirò, insomma, la sfida continua. Ma andiamo a vedere i giornali. La giostra dei traslochi, questo è il titolo del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro di oggi. Tensioni e proteste di operatori sanitari per i trasferimenti di reparti e personale tra Pesaro e Fano, nelle Marche ieri altri otto decessi. Crescono i ricoveri e i contagi, il 197, il primato alla provincia di Ancona. Poi a centropagina su tutte le edizioni invece la fotografia di Pieralisi, aveva 82 anni, è morto, è morto anche se gli è stata riscontrata la positività al coronavirus. E' giusto, secondo me, dire che più di coronavirus credo sia morto appunto per le complicanze anche di questa operazione, intervento chirurgico a cui si è sottoposto l'imprenditore. Sgarbi va a cena, da carriera stop dei carabinieri, poi Covid Hotel, pronte due strutture per l'intera provincia e biodigestore seri rivendica il ruolo di Aset nel progetto. Spazi aperti e fondi europei, le linee guida per il turismo, qui di taglio basso, stati generali ricci lancia 500 milioni di progetti, obiettivo ottenerne almeno 100 di finanziamenti. E poi il resto del Carlino, frate positivo, parrocchia in tilt, il frate è nella chiesa della parrocchia di San Giuseppe al Porto, siamo a Fano, il caso con quattro confratelli che si trovano ora in quarantena, le messe celebrate solo nei giorni festivi grazie anche agli altri parroci. Le chiusure e la rabbia, questa è la fotonotizia invece, la protesta dei negozi dentro i centri commerciali. Sapete, i centri commerciali sono chiusi, la galleria è chiusa, quindi i negozi che non trattano genere alimentari sono chiusi. In realtà poi sappiamo bene che, come per esempio a Pesolo, a Fano, insomma in tutti i grandi centri commerciali, c'è la grande distribuzione con gli alimentari che occupano lo spazio più grande, poi piccoli negozi all'interno della galleria. Ecco, quelli saranno chiusi mentre gli altri restano aperti. E insomma c'è chi protesta perché insomma vede in tutto questo una sorta di ingiustizia. Otto decessi invece nelle Marche, anche un 89enne pesarese, poi Sgarbi sfida tutti e va a cena in un ristorante di carriera, a Fano una nuova protesta. La guerra in Confindustria invece, Papalini eletto, sarà un'ardua partenza. Sotto lo sport con Varese senza Ferrero, Vueli a caccia del Filotto, Biancorossi cercano la terza vittoria, poi Valentino Rossi che è guarito, è stato dichiarato negativo al Covid, Valentino ora è negativo, domani corre a Valencia. La pagina del Carlino, la pagina interna con la fotografia rubata dall'esterno del locale di Carriera, in centro siamo in via San Francesco, praticamente dietro al municipio di Fano, è arrivato intorno alle 21, con lui anche una ventina di persone che hanno cenato, tra virgolette, lui dice ha fatto un aperitivo, comunque arrivano i carabinieri, il parlamentare sfida le autorità seduto al tavolo dello Scic, militari bloccati fuori dalla porta, il sindaco Seri che stava guardando la diretta su Fano TV, su Facebook, è arrivato e ha subito protestato, ha detto la sua, ha condannato questa iniziativa, proteste anche dai ristoratori, la provocazione, dicono i ristoratori, è inaccettabile. Il Corriere Adriatico, addio a Piera Lisi, l'uomo innovatore, l'industriale Iesino è morto ieri all'età di 82 anni dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Pesaro durante l'adegenza, era risultato anche positivo al coronavirus, la camera ardente sarà allestita domani alle 10 nella sala del commiato di fronte alla sua azienda, i funerali invece si terranno lunedì alle 14.30 al Duomo di Iesi, il cordoglio delle Marche. Questa invece è la pagina di Fano, dicevamo, del resto del carlino con il Covid che spopola il centro storico, viaggio tra le vie deserte, temperature primaverili ma il cuore della città non riesce più a battere, tavoli vuoti, clienti che non ci sono e desolazioni nei tempi della pandemia. Intanto i controlli delle forze dell'ordine in questo primo fine settimana con il coprifuoco è iniziato ieri alle 10, potenziata la sorveglianza. Andiamo a vedere adesso invece la pagina 3 dell'arresto del carlino, il titolo Frate positivo, no a messe e funerali e i confratelli vanno in quarantena. Succede alla chiesa di San Giuseppe al Porto a Fano, eccezione, le due funzioni religiose di oggi e di domani, celebrate però da altri sacerdoti. Nei feriali invece la parrocchia è aperta solo per le preghiere personali. Intanto il cartello affisso sul portone d'ingresso dell'edificio dice nessun servizio ai fedeli nei prossimi 14 giorni. E allora stiamo parlando della parrocchia di San Giuseppe al Porto dove è apparso ieri questo cartello, la nostra chiesa è stata già igienizzata, scrivono i frati e nei giorni feriali rimane aperta per la preghiera personale. Ha detto al telefono il parroco Gianfranco Casagrande, isolato nei suoi appartamenti come tutti gli altri quattro confratelli dell'Ordine di Sant'Agostino, dice noi siamo negativi, solo padre Giuseppe che ha 88 anni da qualche giorno ha la febbre. Dunque lui che vedete nella fotografia è il parroco, quindi padre Gianfranco Casagrande, mentre ad avere la febbre è padre Giuseppe di 88 anni che è stato messo in isolamento. Le messe festive comunque di sabato 7 alle 5 del pomeriggio e domenica 8 in accordo con il Vescovo Armando Trasarti verranno celebrate regolarmente grazie alla disponibilità di molti sacerdoti delle diocesi di Fano che hanno organizzato una turnazione proprio per San Giuseppe al porto. Allora Pedini, le cucine Pedini, conosciamo tutti, a Pechino un maxi showroom, la prima mossa dei nuovi soci cinesi, un'apertura nei mercati dei paesi asiatici. Dopo un anno di trattative anche non facili, ieri si è chiuso l'accordo tra Daniele Radi, titolare della Pedini Cucine che ha gli stabilimenti a Lucrezia di Cartoceto lungo la superstrada ed un grande gruppo cinese che opera nel settore del mobile arredo. Non solo produzione ma anche commercializzazione con una grande forza nei paesi asiatici ma anche in Canada e negli Stati Uniti. Biodigestore Aset entrerà nel progetto, dice il sindaco di Fano Massimo Serri, ma la scelta del sito non è un problema, il sindaco rivendica la partecipazione alla società di scopo creata da marche multiservizi, dimensioni adeguate al territorio. Sotto invece del vecchio, su questo argomento, continua a ribadire la sua posizione contraria, impianto mirato alla speculazione ambientale per il commissario dell'Udc, tecnologia obsoleta e rischiosa. La regione darà altre linee. Mentre oggi l'addio a Fabio Renzi, funerale al Cristo Re, la diretta è su Facebook per quanto riguarda la sicurezza. Ieri c'è stato un partecipato e commosso rosario celebrato nella chiesa di Cristo Re. Oggi, dalle 14 alle 16, la commemorazione religiosa in memoria dell'Avvocato Fabio Renzi, generoso e gioviale, compagno e travolgente, la cui morte così inaspettata e improvvisa ha sconvolto tutti quanti. ATC invece dalla pagina di Vallefoglia, chiesto il commissariamento urgente, no investimenti e gestione inadeguata, mozione del consigliere regionale Giacomo Rossi, il 7 ottobre in 37 avevano sfiduciato il comitato locale. Sul biodigestore invece da Vallefoglia, Palmiro Ucchielli dice, i cittadini saranno informati, mozione della maggioranza votata anche dal Movimento 5 Stelle, nel caso arrivi la proposta di Marche Multiservizi, ma Ucchieri dice, ancora qua non è arrivato nulla. Sempre dalla cronaca di Fano del Corriere, la casetta presidio del parco, la famosa casetta del custode, per varie attività aggregative. È stato presentato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'ex centro sociale Grisli. Poi il saluto all'amata maestra dell'asilo nido che si congeda dopo 40 anni, una persona, una pergamena ricorda il suo servizio a Bellocchi ed è stata consegnata questa pergamena ad Anna Cecchini, storica educatrice di Fano che dopo oltre 40 anni di carriera nei giorni scorsi ha deciso di prendersi il meritato riposo. Sotto, sempre dalla pagina di Fano, Avis, più medici e tecnici nei centri trasfusionali, Savelli chiede assunzioni alle aziende sanitarie per il plasma iperimmune. Contestata una grave negligenza per il centro pari opportunità, la ditta appaltatrice inadempiente rispetto agli impegni dell'appalto, siamo sulla pagina di Fano. Poi la Lega che chiede un parcheggio, in comune dice invece senza senso, scontro di proposte per l'area ex Agip che è prossima alla scuola, vicina alla scuola Corridoni. Tensione tra i taxisti fanesi, il sindaco intervenga, il Movimento 5 Stelle segnale il problema della pubblicità di una parte della categoria. E poi da Pesaro, penalizzate le piccole imprese, difesa invece la grande distribuzione, quelle che abbiamo visto poco fa, confartigianato va dal prefetto, nei centri commerciali chiuse solo le attività artigiane, un segnale pesante. Aiuto privato al trasporto pubblico, trattativa aperta, invece Gasparoni ha incontrato l'assessore regionale Castelli, marche reticenti verso questa soluzione. Intanto a Colli al Metauro, sapete Colli al Metauro non ha più il sindaco perché Stefano Guzzi è diventato assessore regionale, quindi incompatibilità con la carica. Giuliani pronto a guidare Colli al Metauro. Sta andando avanti dunque il procedimento per la dichiarazione di decadenza del neossessore regionale Aguzzi dalle sue funzioni di sindaco. Poi chiaramente questo è l'iter, il prossimo anno a primavera gli abitanti, i residenti del comune di Colli al Metauro dovranno andare a votare. Intanto l'iter è volto ad evitare il commissariamento e a consentire all'amministrazione di andare avanti nella gestione del territorio. Verso i lavori di ripristino del muro della provinciale, invece l'altra notizia sul Carlino, Bellisio, l'intervento verrà eseguito dalla provincia di Pesaro e Urbino. Mentre dalla pagina 10 del Carlino, ecco perché sto con Filisetti. Il direttore scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, che è finito nel tritacarne mediatico per la lettera che ha scritto in occasione del 4 novembre agli studenti marchigiani. E dalla sua parte, e quindi con una sorta di voce fuori dal coro, del coro delle proteste, c'è da registrare quella dell'avvocato Italo D'Angelo, che noi conosciamo bene perché Italo D'Angelo è stato ex questore qui a Pesaro e quindi ha diretto la polizia qua per diversi anni. Ebbene, lui dice no ai giovani bamboccioni, l'attacco che c'è stato ieri, che continua anche oggi sulle colonne del giornale, da parte dei sindacati, da parte in particolare della sinistra, dice Italo D'Angelo Io ho avuto cinque zii arruolati e solo mio padre è tornato a casa dalla guerra. Il sacrificio dei soldati, quindi lo conosco, lo conosco bene. D'Angelo, lei sta con Filippetti, questa è la domanda. La risposta, certo, ha detto una cosa di buon senso parlando ai giovani. Non mi sembra abbia chiesto grandi sacrifici come quelli che invece hanno affrontato chi è andato in guerra. Io ho capito quelle parole, non conosco di persona Filisetti, ma lo abbraccerei per quello che ha detto ai ragazzi. Io ho avuto cinque zii arruolati, solo mio padre è tornato vivo a casa e perché sapeva suonare il sassofono e allora allietava le cene degli ufficiali inglesi che poi gli lasciavano dei tozzi di pane da mangiare e bucce di patate. È sopravvissuto così, è tornato a casa che era vecchio, dopo undici anni di prigionia e di guerra. Non vorremmo mica paragonare il sacrificio dei nostri padri con i sacrifici di oggi dei giovani. Li vogliamo tutti bamboccioni, ancora a casa con i genitori e voglio sottolineare che io non sono fascista. Non lo è, tra l'altro si era candidato nelle liste del centro-sinistra, adesso alle ultime regionali, in appoggio a Mangialardi e quindi insomma credo che di fascismo non abbia neanche l'ombra. Eppure ha ragionato con il buonsenso, cosa che invece non si legge guardando gli altri articoli sparsi un po' nel giornale anche di oggi. Andiamo sull'altra pagina invece. Val Metauro, frana, da anni compromette la gradinata della Corte Alta. Siamo a Fossombrone. Serretti dell'Osservatorio Cittadino illustra il degrado monumentale. Poi sotto, vandali sempre a Fossombrone nel parco, chiesta una telecamera, cittadini di Borgo Sant'Antonio esasperati per più episodi, politiche giovanili anche qui in questo caso carenti. La biblioteca deve chiudere invece, siamo a Mondolfo ma i libri arriveranno a casa, l'impegno del comune di Mondolfo, la gratitudine di un utente storica. E poi a Fraterosa, Fraterosa si impegna a vietare l'uso dei pesticidi, adesione al programma dei comuni d'Europa. La strada per Fabriano tornerà a doppio senso, a Pergola il 16 novembre al Via I Lavori per eliminare il ristringimento. Ecco la viabilità alternativa. Muore a 62 anni, torniamo sul Carlino. Gigi Andreani aveva allenato alla Lupo, lascia la compagna e un figlio. Ora si occupava di vendita di energie elettriche, i funerali fissati per lunedì alle ore 15.30 nella chiesa dei Cappuccini dove domani invece domenica 8 alle 18 sarà recitato il Santo Rosario. Schianto tra auto, 47enne in gravi condizioni, trasferite nelle ambulanze a Cesena, successo a Tavuglia. Sembra che all'origine ci sia un mancato rispetto sulla precedenza. Rossi, Giacomo Rossi, consigliere regionale, che è intervenuto sulla vicenda dell'ambito territoriale di caccia a Pesaro I, depositando una mozione in consiglio regionale per chiedere il commissariamento dell'ente, come prevede la legge regionale, dopo che nell'ultima assemblea dei delegati non sono stati approvati i bilanci presentati dalla giunta guidata dal pesarese Alberto Malavolta. I bilanci sono stati pesantemente bocciati dall'assemblea. Poi sotto un albanese a Cagli che salva la vita al vicino di casa che chiedeva soccorso. Durante la notte questa persona di 80 anni si è sentita male, vive sola. Questa persona dunque ha iniziato a lamentarsi, però vivendo solo nessuno poteva aiutarlo. Qualcuno ha cominciato a sentire questi lamenti all'intorno alle 5.30 del mattino, un suo coinquilino, appunto quest'albanese, che poi si è dato subito da fare e lo ha salvato. Gli ha salvato la vita. Postazioni 118. Rivedere i criteri. Siamo sulla pagina di Fermignano. Ancora il consigliere Rossi che dice area vasta 1, situazione in 4 punti delle zone interne, valori di economicità disattesi. L'interrogazione evidenzia perché sarebbe meglio poter garantire interventi con personale ASUR anziché personale privato. Didattica a distanza, i prof non sono stati formati. Bonetti, docente all'ITIS, dice con i miei studenti cerco di parlare molto. Con i musei chiusi, restiamo ad Urbino, con i musei chiusi pensiamo a seminare. Giuseppe Magnanelli, che è priore della confraternita di San Giovanni, dice questi mesi vanno sfruttati per prepararsi alla ripartenza. Intanto Casa Raffaello è chiusa, lavoriamo in silenzio. il presidente dell'Accademia Luigi Bravi spiega che in questo periodo l'istituzione si prepara al futuro e ritorno dei turisti. E già, perché comunque dobbiamo anche pensare che prima o poi tutto questo finirà. Devo rinviare il vaccino, non c'è per l'influenza, a parte i soggetti a rischio non si trovano le dosi richieste. A Senigallia ho prenotato da tempo, ma non basta. Ci sono molti pazienti che in questi giorni si sarebbero dovuti sottoporre la vaccinazione contro l'influenza, ma sono stati raggiunti telefonicamente ed invitati ad attendere a causa dello scarso numero di vaccini pervenuti ai medici di base. Dunque, è una vaccinazione che è a tappeto, che si è ormai trasformata in una ricerca infruttuosa. Molti, infatti, vogliono assolutamente vaccinarsi contro l'influenza, che però, ripetiamo, non serve assolutamente contro il Covid, ma comunque serve anche quello. Quindi sì, è importante anche quello. Allora, andiamo a vedere l'altra pagina in Senigallia dal Corriere Adriatico. Covid hotel in città e infermieri, intesa tra Santa Martini, che è il sessore regionale alla sanità, e il nuovo sindaco di Senigallia, Olivetti. Abbiamo chiesto agli albergatori di individuare le strutture adatte. Intanto due le educatrici positive in un asilo nido. Mentre dalla pagina in Senigallia del Carlino, è un po' quello che si diceva anche nei giorni scorsi, i locali chiudono sì alle 8, però poi la gente si incontra da altre parti, e quindi bivacca altrove, in questo caso a Senigallia in un parco. I gruppi di ragazzi si sono già organizzati con birra e alcolici, mangiano e bevano ai tavoli dei vari parchi cittadini, e quindi fanno serata praticamente lì, fino alle 10, perché poi alle 10 scatta il cosiddetto coprifuoco in tutta Italia. Area Bianchelli, sempre da Senigallia, rivisto il progetto, il sindaco decideranno i cittadini, ponte 2 giugno si cambia, verranno subito costruiti i pali di sostegno della nuova struttura, poi verrà effettuata la demolizione. Accordo fatto invece per due nuovi Maxi Store, sempre Senigallia, prendono il posto degli ex King Sport, un'attività di abbigliamento in Via Bruno, l'insegna a Terranova nei locali di Via Abbagnano. Mentre c'è l'addio a Donatella, uccisa da un malore nella sua abitazione, aveva 61 anni, il sindaco di Barbara dice lutto collettivo. E poi lo sport con Di Donato, qui siamo in casa Vis, che studia appunto la sua nuova squadra, ma niente rivoluzioni, il nuovo allenatore per ora non dovrebbe fare grandi modifiche in squadra, per la trasferta di domani a Salò ci si aspetta però un cambio di mentalità. Mentre in casa Granata c'è l'ostico sul Tirol, destro che il nuovo allenatore prova subito l'impresa. Il debutto dunque del nuovo mister sulla panchina Granata, con un'attenzione speciale alla fase difensiva. Dobbiamo scrollarci di dosso, dice l'allenatore, le nostre insicurezze e ricominciare ad avere autostima. Anche perché si prepara la tavola con quello che c'è, quindi non ci sono rinforzi, non c'è nulla, così come è stato detto dalla società, se ne riparlerà a gennaio e dunque bisogna tirar fuori gli attributi. Vale invece, ecco qua, la notizia di Valentino Rossi, che fa felici tutti, con lui sarà un altro Gran Premio, il dottore è negativo al secondo tampone, scende in pista per le libere alle 10.55, il suo ritorno ridà interesse ad un mondiale finora senza grandi protagonisti, alle 14.50 si decide la griglia di partenza, gare in diretta su Sky e Dazon, solo indifferite invece su TV8, questo per chi volesse appunto seguire il Gran Premio. Poi repeggia invece al coach della VL, al Miele, bravi e attenti i miei ragazzi, il coach della VL dopo il tampone passa la carota, dopo il bastone passa la carota per stimolare la sua squadra, domani sera c'è Varese e dunque ovviamente c'è la massima attenzione, anche per quanto riguarda questo incontro che per i pesaresi, che amano il basket è comunque sempre importante. Allora io adesso sto cercando di farvi vedere, faccio una cosa per la quale vi chiedo scusa, ma nel senso non ho alternative, ero uscito all'inizio della rassegna stampa, intanto saluto quelli che vogliono andarsene, che non hanno voglia di stare qui a vedere me che gestisco con il computer, però voglio andare sulla nostra pagina, no, ecco vedi, sono stato quasi fortunato, ecco, il Padre Eterno mi ha dato una mano in questo senso, quindi niente, poco attesa, anzi ci siamo, vi posso far vedere subito, ecco qui c'è la nostra diretta, vedete, ma voglio andare invece sulla diretta di ieri sera, che da qualche parte l'avevo vista stamattina, eccola qua, la diretta, che guardate che numeri strepitosi ha fatto, ma noi andiamo adesso, andiamo a vederla insieme, vediamo come posso farvela vedere, così, ecco qua, diamo l'audio Riccardo per favore, perfetto, adesso questa è la nostra Simona che ha raccontato ai nostri telespettatori un po' quello che stava succedendo, ecco Vittorio Sgarbi, sentiamo che cosa ha detto Vittorio Sgarbi all'uscita, intanto voglio farvi vedere Sgarbi dentro il locale, ecco, noi siamo rimasti fuori ovviamente, qualcuno cominciava un po' a sbaritare, ecco, guardate quanta gente, in realtà era più un aperitivo che una cena, ma comunque considerata l'ora, considerato il coprifuoco, considerato che il locale alle 18 doveva essere chiuso, comunque fare soltanto il delivery, quindi soltanto l'asporto e non la cena, qui in realtà le persone si sono sedute, come vedete, ma era più un'operazione chiaramente provocatoria, come lo sono state le altre che hanno preceduto, questa era la terza azione, il terzo ristorante che è stato chiuso, volevo farvi vedere a un certo punto, ecco, qui ci sono già i Carabinieri, Carabinieri che sono comunque rimasti giustamente, secondo me anche fuori, perché comunque sono situazioni che vanno anche gestite, loro sanno come fare, in qualche modo, poi dentro c'è un rappresentante del Parlamento, insomma, ecco, tutta una serie di considerazioni che meglio di noi le forze dell'ordine riescono a fare. Allora, qui Simona, ecco, di nuovo parla, guardate quanto interesse ha anche televisioni, televisioni eravamo solo noi in realtà, poi c'era anche, no, c'era anche un'altra televisione, poi c'era una TV nazionale. Ecco, sentiamo un attimo cosa dice Sgarbi. Si diffonde alle denti e non alle 18, e allora se non si diffonde, per esempio San Marino dove sto andando, c'è evidentemente l'incongruenza di cui i cittadini non devono essere vittime. Io per quello che mi riguarda faccio il politico, quindi sono venuto a testimoniare democraticamente che questa azione è una situazione da Stato di Polizia, in fatto c'è un sacco di Polizia, e che la libertà delle persone non può essere condizionata da un malinteso pregiudizio della salute. Cioè, credo che dal punto di vista della storia che abbiamo vissuto, Gramsci, Gobetti, il mondo diciamo che ci ha portato all'attuale situazione di democrazia, si possa dire che noi possiamo sacrificare la salute per la libertà, ma non la libertà per la salute. Ecco, questo se volete lo potete trovare, lo potete trovare, poi qui c'è Sgarbi che noi abbiamo seguito con appunto la nostra diretta, Sgarbi per le vie del centro di Fano, che se ne va, saluta i carabinieri, li ringrazia, poi ecco, vedete il momento in cui sale nella sua automobile, senza mascherina, Vittorio Sgarbi è sempre stato senza mascherina, e poi a un certo punto prende e se ne va via. Poi sempre nella nostra diretta, ecco qui ci sono i carabinieri, Polizia Locale, che in qualche modo identificano anche tutte le persone che erano all'interno, i commensali, ancora Simona che racconta, e poi il Sindaco di Fano, il Sindaco di Fano che ha raggiunto dopo aver visto la nostra diretta seguitissima, tra l'altro abbiamo avuto dei numeri incredibili, più di 100.000 persone hanno visto la diretta almeno per qualche minuto, qui sono gli ultimi commensali che escono, c'è Umberto Carriera, lo vedete qua dietro in fondo con la mascherina rossa che sta uscendo, non c'è più tempo, sono le 7.29, per chi ci segue in diretta, comunque se andate sulla nostra pagina Facebook, occhialotizia.it, c'è tutto quello che vi abbiamo trasmesso ieri sera. Io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, stasera c'è 7 per occhio, con l'informazione è tutto, ci rivediamo lunedì mattina alle 7, arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.